Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, voglio fare un video sugli influencer. Allora, gli influencer sono quell'accordo di persone che mostrano la loro vita, mostrano quello che fanno, i loro viaggi, il loro cibo, questo e l'altro. Sono persone comunque che esibiscono la loro vita, come la Gara Ferragni, la maggior parte, che si mette lì e mostra quando va al cesso ogni volta. E praticamente c'è stato il fatto che, allora, un po' tutti noi vogliamo essere influencer, siamo un po' influencer, perché postiamo quando mangiamo, postiamo quando usciamo, postiamo quando stiamo in giro, questo e quell'altro. Senza rendercene conto, siamo degli piccoli influencer, però giustamente è inutile dire che si influencer quando c'è mille persone, 500, 100 persone che ti seguono, perché non sei un influencer, una persona comune, è solo uno che si collega su Facebook, su Instagram, su TikTok e ha dei suoi contenuti, ma ne ha eseguito poca gente. Perché ne ha seguito poca gente, quando si chiede, perché se non fai una vita agiata, se non hai i soldi, se non viaggi, se non mostri i posti, se non mostri i ristoranti, se non mostri i luoghi o i monumenti, quel cazzo la gente guarda le tue storie, perché giustamente, se mi mi sono visto, vengo vista da quelle stesse persone, la maggior parte se ne frega proprio, perché si fermano una storia e non vanno altro, questo mi rende anche fastidio, sinceramente, però posso anche capirlo, sapete perché, sinceramente, io non sono un influencer di quelli che ha mostrato una vita, che ne so, tipo bella, che diceva, sai, questo viaggia sempre, presto sempre a Oslo, a Marcellona, a Parigi, mostro la Torifera, mostro la Roa de Blois, mostro il Colosseo, a Roma, questo è un po' lo Cristo, come me, che sta a casa, mostro il panino nel McDonald's, al massimo, il KFC, il pollo, il giro per la Versa, il massimo va bene, forse è la cosa più potente che potrebbe fare a lungomare di Napoli, con la birra e i taralli, forse quella posso fare al massimo che possa un birra. Per dire, sostanzialmente, la vita di queste manodule ha sempre le stesse cose, non può mai interessare a un'altra persona, non posso mai essere, non posso mai competere con gli influencer che mostrano i viaggi, traverdi qua, traverdi là, lì, di bar, ristorante, in continuazione, non dico poche volte, in continuazione. Detto questo, secondo me, uno, se non ha una vita, se non si organizza bene, non mostra contenuti importanti, non usa che si butta a fare gli influencer, penso che sia stato chiaro.